Hola, come va? Io sono la Ro e mi presento, sono una youtuber, io approfitto per salutare Rubaldo Gamer che mi ha dato la possibilità di farvi un salutino veloce veloce e un bacione se volete venire a trovarmi, mi chiamo la Ro, un bacione alla prossima, ciao! Ciao la Ro e mi raccomando ragazzi, passate anche nel suo canale e lo troverete qua sotto in descrizione Buonasera a tutti ragazzi e ben ritrovati sul canale di Rubaldo Gamer Oggi come sempre siamo sulla rubrica delle sponsorizzazioni, siete ancora davvero tantissimi e pensate che questo video l'avevo caricato per lo speciale di Natale e pensavo che finisse da lì a pochi giorni, invece ragazzi avete continuato a mandarmi un sacco di messaggi, complimenti per questa iniziativa che non ho potuto fare a meno veramente di ignorare i vostri messaggi perché veramente per prima cosa io tengo tantissimo le persone che comunque mi dedicano attenzioni su questo portale e non posso che rispondervi e farvi contenti quindi se c'è ancora qualcuno che volesse essere sponsorizzato io lo faccio volentieri ovviamente datemi il tempo di poter visionare tutti i vostri canali perché sono molti e molti video durano anche tanto quindi datemi veramente il tempo perché io non porto solo sponsorizzazioni all'interno del mio canale ma tratto anche gaming, recensioni e faccio anche video di altro tipo non posso dedicarmi solo alle sponsorizzazioni ma prendo in considerazione i vostri messaggi veramente perché siete veramente delle persone squisite che mi fa veramente piacere sponsorizzare e quindi ragazzi non perdiamo tempo, iniziamo con il gruppo di ragazzi che ho scelto oggi per la sponsorizzazione allora questo è il primo canale che si chiama ABD-Low06, scrivetelo esattamente così ha 59 iscritti che sono veramente veramente pochi però è un ragazzo che si dà veramente tanto da fare e per la sua età è veramente davvero maturo iniziamo ad analizzare il suo canale allora intanto complimenti per l'immagine di copertina perché è veramente semplice e ben fatta tu porti Minecraft e tanto altro quindi ci spieghi già un po' cosa ci porti e questo ti fa veramente capire quando entri in un canale a prima vista ti fai già un'idea di quello che porti e quindi ottima copertina veramente azzeccata intanto anche l'immagine diciamo del canale è perfetta perché descriverci o chi sei e va benissimo così poi qua interessante lui ha messo due link il link del canale di Facebook quindi se volete iscrivervi cliccate qua e poi qui a fianco nella F c'è il canale della vera e propria persona non tutti lo fanno quindi complimenti per il coraggio allora vediamo subito i tuoi video ho visto i primi due erano abbastanza lunghetti li ho analizzati e devo dirti che come ho già detto prima sei un ragazzo veramente in gamba ti faccio i miei complimenti perché hai veramente una maturità molto discreta per la tua età quindi bravo già che sai usare tutti questi programmi che io ho dovuto imparare a fatica per editare ti fa un grande onore allora lui cosa porta? porta Minecraft porta Travelcrack porta Vlog risponde alle domande dei suoi iscritti quindi davvero tentativo ragazzi mi raccomando iscrivetevi perché 59 iscritti sono veramente veramente pochi a me dispiace questa cosa quindi passate da BD Low un saluto e ci vediamo alla prossima allora passiamo al canale di Scud3official scritto in questo modo ragazzi a 50 iscritti pure lui sono veramente pochi anche lui è un altro ragazzo che si dà tantissimo da fare iniziamo ad analizzare il suo canale se posso darti un consiglio Scud cambia l'immagine di copertina perché è troppo grande come iscritta di scrivere poco quello che sei e quello che porti nel canale io ti consiglio un ragazzo che ad esempio da poco ha messo in mano la mia copertina veramente me l'ha fatta molto molto bene che ti ascolta si chiama il Winner è un altro canale di YouTube come te se tu vai, ti iscrivi, lascia un commento sotto i suoi video lui prenderà in carico la tua richiesta e ti farà un'immagine di copertina fighissima quindi ti consiglio andare da lui mentre per quanto riguarda l'immagine appunto del profilo va benissimo così allora qua sotto vedo che hai messo il link di Instagram bravissimo se c'è anche quello di Facebook inseriscilo mentre qui a destra hai messo il link di YouTube che ti riporta questo canale e non c'è bisogno di farlo perché io posso iscrivermi direttamente da qua allora passiamo ai tuoi video allora lui porta tantissimi video di Clash Royale complimenti per il titolo perché è un titolo che va molto di moda e questo ti può aiutare sicuramente a crescere porta anche Minecraft quindi porta tanti episodi di Minecraft porta Slittery è un altro gioco fighissimo che ho giocato anche io vedo che qui porti anche Pokémon Go bravissimo perché lo porta anche io nel mio canale è fatto davvero un'ultima scelta allora ragazzi questo è il suo canale a 50 iscritti sono davvero pochissimi iscrivetevi perché voglio vederli veramente aumentare un saluto Scoot3 ci vediamo alla prossima passiamo al canale invece di Tibovski o Tibovskay non so come si pronunci scusami se l'ho detto sbagliato allora hai 41 iscritti anche tu non hai l'immagine di copertina ti consiglio veramente di contattare il winner o comunque sia cerca su YouTube non sei costretto a andare solamente da lui ci sono tanti canali che fanno gratuitamente sia delle intro che delle immagini di copertina per altri YouTuber e ti consiglio veramente di darci un'occhiata perché sono ragazzi tantissimo in gamba passiamo ai tuoi video allora qui me li sono visti tutti e due perché lui è un ragazzo che ha pubblicato da poco e sicuramente ha aperto anche da poco il suo canale quindi stiamo parlando di 6 giorni fa lui ci porta dei video su Clash Royale è un ragazzo molto in gamba si sa esprimere bene quindi perché no? perché non dargli una possibilità? 41 iscritti sono davvero pochi voglio vedere anche questo numero aumentare notevolmente un saluto Tibovski o Tibovsky come si dice non lo so me lo direi tu in un commento magari ciao bello allora passiamo poi al canale di Vezaxita allora questo canale mi ricorda tantissimo un altro canale che avevo sponsorizzato non vorrei che fosse la stessa persona con due canali ma oh ragazzi tutto è possibile su YouTube e tutto è concesso quindi nel caso fossi la stessa persona ti risaluto di nuovo il canale in questione però oggi appunto Vezaxita ha 25 iscritti come avevo già detto al tuo sosia o comunque alla persona che ha un canale simile al tuo con le stesse foto ti consiglio appunto di farti fare una copertina cercati qualcuno che te la può fare c'è tanta gente che te la fa vedo che c'è già un intro quindi va benissimo però la immagine di copertina è importante per far capire chi sei l'immagine del cane va bene però magari metti un'immagine che rappresenti di più il tuo canale allora i video che porti sono pochi perché l'hai aperto da poco anche tu ci porti GTA che è un titolo che va da mero tantissimo in tendenza hai messo addirittura un video per ringraziare un tuo fan che ti ha sponsorizzato questo veramente ti fa onore e niente ragazzi porta anche Call of Duty Black Ops e fa anche delle live su GTA 5 quindi ragazzi se volete un gamer con i controfiocchi passate da Vezaxita che ha appena iniziato ma si sta dando davvero tanto da fare a 25 iscritti sono pochi come dico sempre bisogna veramente aiutarlo a crescere quindi passate da lui ed iscrivetevi ciao Vezax passiamo a un canale che mi ha veramente attirato l'attenzione si chiama Elmako scritto così a 10 iscritti pensate sono pochissimi ha caricato molti molti video è un ragazzo davvero in gamba è simpatico si esprime bene mi piace come porta i suoi video appunti che ho da fare per te le immagini di copertina io le lascerei esattamente così come l'hai fatta mi piace è fighissima Majin Buu con gli occhiali e anche questa immagine qua perfetta mi è subito attirato l'attenzione anche quando mi hai lasciato il commento ho visto questa immagine appunto di Majin Buu col colore arcobaleno dietro e ha attirato subito la mia attenzione quindi lasciala esattamente così ti consiglio magari di cambiare la scritta a farla un pochettino più figa è qui sotto oltre il link di Facebook se c'è altri link da mettere inseriscili è importante anche quello passiamo i suoi video ne ho visti due in totali ne ha pubblicati 5 allora lui cosa porta? porta Outlast complimenti per questo titolo io ci ho giocato già al primo l'ho finito magari in futuro lo riporterò anche sul mio canale non lo so mi sono veramente divertito a vedere il tuo video e come ti sei spaventato poi porti Hunger Games e Lucky Wars non so cosa siano questi perché non li ho mai sentiti ma controllerò meglio i tuoi video darò un'occhiata veramente per capirne di più comunque ragazzi lui ha 10 iscritti sono pochissimi però è iniziato da poco da circa una settimana credo perché il primo video risale a quella data iscrivetevi da lui aiutatelo a crescere perché è un ragazzo veramente d'oro ciao Elmako e ci vediamo la prossima volta allora ragazzi questo era un giro velocissimo come vedete vi ha portato solamente 5 canali proprio per dare lo spazio giusto a ognuno di questi ed essere visti diciamo meglio perché se ne portassi tanti sarebbe una cosa troppo dispersiva e la gente perderebbe diciamo l'interesse per i canali stessi spero di insomma averli portati davvero bene un ragazzo mi ha dato il consiglio di lasciare il link dei canali qui sotto in descrizione quindi da questo video lascerò anche il link dei canali così sarà più facile trovarli un saluto a tutti ragazzi da RubaldoGamer ci vediamo come sempre sul mio canale state collegati grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti